ciao oggi preparo le orecchiette con farina rimaccinata di grano duro e acqua quanto basta l'acqua deve essere tiepida iniziamo versando l'acqua pian piano iniziamo ad impastare fino a quando avremo l'impasto pronto per un chilo di farina rimaccinata ci vorrà circa mezzo litro d'acqua va impastata bene finché diventi bello liscio l'impasto dopodiché io la metto sembra a riposare una mezz'oretta dentro una busta da congelatore l'impasto per le orecchiette è pronto lo faccio riposare circa una mezz'ora inizio a preparare le orecchiette io uso questo attrezzino qua mi ci trovo bene poi ognuno può usare un coltello insomma col dito ognuno fa come come gli vengono meglio striscio e porto sul pollice giro sul pollice striscio e giro sul pollice e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovete strisciare ma senza schiacciare troppo, puoi girarla sul pollice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.